Se per caso hai comprato così un avvio di Steam in modalità Big Picture, ovviamente quando provi a giocare con il controller e vuoi personalizzare il tuo Big Picture, tipo per esempio questi sfondi di avvio, vai direttamente su Steam, visualizza qua, proprio qua sopra, visualizza e vai su modalità Big Picture. Una volta fatto vai direttamente su menu, vai su impostazioni, scende fino ad trovare personalizzazione ed eccolo qua, tu qua puoi impostare l'avvio come vuoi, io ovviamente ho questo avvio di Elden Ring Runny, dal negozio dei punti, e lo abilito e basta. Se è stato utilissimo questo tutorial, iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!